Noi abbiamo presentato il piano che noi mettiamo in atto con le nostre risorse in autofinanziamento. Sono 3 miliardi di investimenti per i treni nuovi del trasporto locale che sono già in costruzione, stanno venendo fuori, già alcuni sono usciti dagli stabilimenti, alcuni vedrete oggi e nei due anni prossimi avremo tra treni nuovi, più di 200 e treni ristrutturati come nuovi, 500 mezzi nuovi da dare al trasporto locale, quindi una svolta, una svolta importante. Noi stimiamo che occorrono altri 3 miliardi e speriamo che queste cose vengano da delle risorse pubbliche, così come avviene in altri paesi tipo Germania, Francia, che permettono di poter avere quindi risorse aggiuntive per poter fare un servizio che naturalmente bisogna ricordare ha caratteristiche sociali, non è certamente profittevole. Riteniamo che uno sforzo in questo senso sia importante perché in questo caso veramente potremo dare un servizio di alta qualità. 3 miliardi di euro per ammodernare la flotta a Trenitalia e innovare le tecnologie al servizio del business e dei clienti. 80 milioni di euro destinati all'acquisto di 496 nuovi bus per Bus Italia, che arricchendo l'offerta del gruppo con il trasporto su gomma, consente a FS italiane di proporsi come operatore integrato ed efficace interlocutore unico dei committenti pubblici. Sono soltanto alcuni degli obiettivi presentati oggi, 27 marzo 2014, al forum sul trasporto pubblico locale nodi da sciogliere sfide future, da ferrovie dello Stato italiano alle istituzioni, alla stampa e agli stakeholders. Tanti investimenti nell'infrastruttura, specialmente nelle grandi aree metropolitane. Noi abbiamo due obiettivi, garantire nuove tracce, più tracce all'interno delle grandi aree urbane e maggiore velocità sulle tratte di accesso. In più separazione dei flussi in maniera tale che a evitare interferenze tra i vari servizi che interessano le grandi aree metropolitane. Investimenti ce n'è, non sufficienti per far tutto, ma contiamo negli anni prossimi con un contratto di programma molto più impegnativo per entrambi, per il MIT e per noi, di raggiungere in quattro anni un grande risultato sui grandi aree metropolitane. La situazione è che sostanzialmente tutti i contratti scadono alla fine di quest'anno, tranne pochi, tre o quattro che hanno una durata leggermente maggiore. Oggi abbiamo credito per circa 1 miliardo e 350 milioni, quindi una situazione molto pesante in termini di scaduto. C'è un'emergenza da affrontare per dare continuità a questi contratti. Oggi abbiamo fatto una proposta alle regioni che consente di affrontare con serenità lo sviluppo del mercato e l'apertura del mercato attraverso le gare, ma continuare a dare investimenti e dare qualità a chi usa i treni. L'obiettivo di Ferroviario dello Stato oggi tramite la sua partecipata Bus Italia è di dimostrare che può crescere in Italia una grande azienda di trasporto pubblico locale facendo un buon servizio integrato col ferro e mantenendo un livello di efficienza da impresa.